Ciao bambini! Oggi sono qui con mia zia. Ciao! E lei ha un canale che si chiama? Giarda Carola. Lei parla brasiliano ma c'è il traduttore se volete vedere anche il suo canale ci sta qui sotto e oggi sono qui per fare rischia il gusto challenge e allora gira la ruota deve fermare su queste carameli e dobbiamo prendere su questo sacco ogni colore ha un gusto buono o cattivo e allora se volete vedere questo video venite con me con noi. Ora giriamo è un blu, è un blu. Guarda qua. Sapone grasso o mirtillo di montagna. Adesso dobbiamo aprire queste caramelle schifose. che paura. Aspettate un attimo che mia mamma sta prendo la busta. Prendiamone uno. Prendo il mio. Io prendo il mio. Allora. che sta comendo sapone? Credo il mio. E' buono? Io tu e' buono? Io si e' buono. Però è sapone di sapone. non si stacca dai miei denti. Pronto ma fa schifo. Será tutto così? E' buono. un punto papà. Allora sono io che giro. Giallo. Aia. E gira la ruota. e raddoppia i punti. Allora si gira la ruota e raddoppia i punti. Non lo so guarda qui. Pannolone del nonno. Melone giallo. Eh? E perchè te l'ho ripetuta? Esa mua due a me. Aiuta? A me arancia. A me è buona. A me è buona. Buona. Non si è ancora una schiava. Pannolino tu nonno. Com'è? Cosa sia dopo? Horribile. Ingoli. Che schifo. Non è così. Mi sono spustata. Comi. 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 Pannolino. Engole. 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 Vai, engole logo. Mamma o bicho no dedo. Pede. Engole. Cabernetato da boba. . . . . . . . . non 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 ne sape ingolito già pronto passano non è più pano lindo non sai pinta fa di conto che è l'aranja scusate è il rosa cimite fedente o tutti frutti vai un'altra volta e che 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 è un bicho! un bicho! vai! è il potere! non consigo non pegare è un bicho tipo non c'è sono io vai è tutto bene fogna pudrita oribert blu si è vera e va è molto bella è molto bella è molto bella gloria gloria e la macchina è la capa che la mamma è ancora qui come un bicho come un bicho è è ah 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 giallo vomito puzzolente o tropical i lì di vi think eh sì eh sì 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 è il tuo hai cambiato di colore mi ha dato il peso giallo mi ha aggiunto metteremo un sacco di like perché io non ce la faccio già più perciò mettete tanti uovo puzzolente vomito puzzolente o letame fresco o torta di lamponi un pollo un pochè maggiunque è ma ma si può essere vomita vai 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 non manca non bisogna girare questa è la mia ultima chance per scegliere uno buono perché ci rimangono solo queste speriamo bene mettete tanti like questa qua è la mia ultima chance non è buono a final a voi vi è piaciuto il video fatemelo sapere qui sotto nei commenti scrivetevi al canale cliccate mi piace perché solo questo perché io non riesco a mangiare queste cose comunque ciao un bacione ciao 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 ciao